Sabato 27 e domenica 28 settembre l'Harley Davidson Ticino di Lamone ha aperto le proprie porte per presentare i modelli 2015 con un evento all'insegna delle moto e di tante attività di intrattenimento quali tiro con l'arco, tiro delle freccette, musica anni 80, concorso di bellezza e la presenza della squadra di pallavolo di Lugano, grill, barbecue e mercatino dell'usato. Oggi è veramente il weekend in cui verranno presentati i modelli 2015 ma oltre a ciò ci sono tantissimi eventi, selezioni di misticino e in conclusione della giornata l'evento clou e la presenza di Roberto Parodi che viene espressamente dall'Italia per una conferenza e il prossimo sarà a fine anno. Si sa già da? Il 21 dicembre, domenica 21 dicembre. Beh sì il concessionario ha organizzato questi intrattenimenti per far sì che la gente rimanga, si possa muovere nel contesto della concessionaria e quindi un po' di attrazioni sono sempre uno stimolo per gli adulti e per i bambini e quindi si cerca di creare un ambiente familiare.